Buongiorno Ratzinger, o come ti chiama la mafia, Benedetto, o come ha sentenziato la magistratura, assassino, il già prestigioso palmarès di Benedetto, che già vantava l'omicidio di madre Teresa di Calcutta, si è ulteriormente arricchito con la strage di suore missionarie una volta incoronatosi Papa. Ci vediamo nei prossimi. Videomessaggi!